A Trentina economica è stata minore, questo è un dato di fatto, ce ne stiamo accorgendo tutti, non è poca roba all'interno del bilancio provinciale e quindi che un bilancio provinciale che è già, diciamo, il quale sta già svolgendo tutte le sue funzioni e le sue competenze e quei 400 milioni all'interno dello svolgimento di funzioni e competenze sono ovviamente importanti. Quindi se noi abbiamo tutti i giorni, giustamente, le richieste di intervento finanziario, un conto è farlo con i 400 milioni in cassa, un conto è farlo senza i 400 milioni in cassa, questo lo capisce anche la casalinga di Borghetto, voglio dire. Due cose invece in merito all'ordinanza che forse è bene chiarire, ci ritorniamo sopra, ad esempio l'attività motoria e sportiva non è limitata al proprio comune, quindi si può andare anche lontani purché partendo da casa o dal posto di lavoro. E una seconda cosa...